Adesso questo campionato qui è molto equilibrato, i Hogs hanno una difesa molto molto brava, ci hanno controllato in attacco, noi abbiamo fatto qualche errore in più e ci ha un po' bloccato nel punteggio, dei lanci droppati, qualche penalità in più e questo ci ha creato di non avere lo stacco o avere il touchdown in più, ma complimenti agli Hogs che hanno una grandissima difesa. Rispetto alla partita precedente, progressi? Sì, l'attacco a Sprazzo è giocato un po' più continuo, c'è l'intesa fra i ricevitori e Cairn, sta migliorando, il problema, ripeto, siamo stati penalizzati al principio del campionato per le condizioni meteo a Bologna che non ci ha permesso mai di allenarci.